Ciao a tutti! Nell'esercizio di oggi continuiamo a lavorare nello spazio 3D e durante l'esercizio vedremo anche in particolare come si gestisce una precomposizione che a sua volta contiene dei livelli 3D. Bene, vediamo subito quello che dobbiamo realizzare. Benissimo, come vedete si tratta di due scene 3D che faremo ruotare su se stesse intorno al loro asse verticale, un po' come una giostra e le inquadreremo con una camera con un obiettivo abbastanza largo, tipo grandangolo. Bene, cominciamo! Allora, il materiale che useremo durante l'esercizio e che potete scaricare dal link che trovate nella pagina del tutorial è composto di 5 elementi. Abbiamo due fotografie, eccole qua, e tre elementi grafici, il pavimento e i due titoli. Le due foto le importate come semplice footage, mentre i tre elementi grafici le importate, come si vede qui, sotto forma di composizione. Bene, cominciamo a fare le animazioni dalle tre composizioni e poi dopo assembliamo le due scene. Partiamo dalla composizione pavimento, quindi doppio clic su pavimento e prima di proseguire sinceriamoci che la composizione duri 4 secondi e per farlo andiamo in Composition, Composition, Settings. Nel mio caso, come vedete qua, la durata è già giusta, 4 secondi e quindi anche voi, se avete una durata diversa, la correggete in 4 secondi. Benissimo, diamo l'ok. Allora, in questa composizione abbiamo tre quadrati, il quadrato piccolo, il quadrato medio e il quadrato grande. Vogliamo fare in modo che, mentre il quadrato piccolo e il quadrato grande sono accesi, quello medio rimane spento e viceversa, quando invece spegniamo quello piccolo e quello grande, quello medio si accenda. Quindi dobbiamo fare delle animazioni sull'opacità. Allora, seleziono tutti e tre i livelli, metto in evidenza l'opacità e facciamo sì che al tempo zero il quadrato piccolo e il quadrato grande abbiano opacità 100% e quello medio invece 0% sia spento. E ora accendiamo i tre orologi 1, 2 e 3. Poi avanziamo nella timeline circa 6 frame e in questo momento vogliamo che il quadrato piccolo e grande siano spenti e quello medio sia acceso. Quindi mentre il piccolo e il grande si spengono, quello medio si accende. Adesso, prima di ripetere in loop questa animazione per tutta la duata della composizione, ammorbidiamo anche un po' tutti i keyframe. Quindi li seleziono e con la palette controllo easy-easy, gli assegno un valore abbastanza alto tra i 90 e i 100. Bene, e adesso per far sì che i due valori 0 e 100 si ripetano alternandosi, possiamo usare la palette looping, impostata però sulla modalità ping pong, in modo appunto che i keyframe si ripetano in continuazione alternandosi tra il primo e l'ultimo. Quindi selezioniamo di nuovo tutti quanti i keyframe e adesso clicchiamo il bottone applica. Benissimo, proviamo a fare una preview per vedere se l'animazione va bene. Benissimo, ci siamo. Adesso vorrei ritagliare questi tre quadrati in modo che sembrano formati da una griglia di punti luminosi, come si vede qua. E per far questo ci facciamo aiutare dall'effetto griglia. Quindi torno in After Effects e siccome voglio che l'effetto ritagli contemporaneamente tutti i livelli, lo applico a un livello d'aggiustamento posto in cima a tutti quanti. Quindi vado in Layer, New Adjustment Layer e creo il livello d'aggiustamento. Poi lo seleziono, menu effetti, vado nella categoria Generate e l'effetto che mi serve è Grid, griglia. Ora per distinguere meglio l'effetto dallo sfondo clicco su questo pulsante qua in modo che ho uno sfondo uniforme nero. Ora vengo nei parametri dell'effetto e innanzitutto modifico il parametro Size From da Corner Point a Width Slider in modo da gestire più facilmente la dimensione delle maglie della griglia, grazie al parametro Width, larghezza, che appunto gestisce la larghezza delle maglie, come vedete. Benissimo. Ma noi vogliamo usare questa griglia per ritagliare i livelli sottostanti. Quindi dobbiamo andare nel parametro Blending Mode e impostare l'effetto sulla voce Stencil Alpha. Bene. Ma noi vorremmo vedere i quadrati verdi non in corrispondenza delle maglie ma in corrispondenza dei fori della griglia. E quindi, ultimo passaggio, dobbiamo invertire la griglia. Quindi veniamo qua e attiviamo il bottone Invert Grid. A questo punto possiamo finalmente aggiustare la dimensione finale della griglia. Quindi torniamo al parametro Width, larghezza, e in questo caso direi di abbassarlo più o meno a 12. E lo spazio fra i quadrati lo gestiamo invece col parametro Border. E questo lo imposterei più o meno a 6. Perfetto. E quindi adesso direi che ci siamo. Passiamo adesso alle altre due composizioni. Quindi torniamo nella finestra Progetto e incominciamo da Titoli Scena 1. Quindi doppio clic e come vedete abbiamo due livelli. Il nastro verde e il nastro viola. Noi vogliamo far scorrere i due nastri in direzione opposta. Quello verde verso destra e quello viola verso sinistra. E soprattutto vogliamo far sì che la porzione del nastro che esce da un lato dell'inquadratura rientra automaticamente dal lato opposto. E per ottenere questo usiamo l'effetto Offset. Benissimo. Incominciamo dal nastro verde. Lo selezioniamo. Andiamo nel menu Effetti, nella categoria Distort e l'effetto come dicevo si chiama Offset. Andiamo al primo parametro Shift Center e se aumento il valore X come vedete il nastro scorre verso destra e la parte che esce a destra rientra da sinistra. Quindi non dobbiamo fare altro che mettere due keyframe a questo parametro qui. Quindi doppio clic sull'effetto Offset in modo che i parametri compagnano nella timeline. Al tempo zero accendiamo l'orologio di Shift Center in modo da registrare questa posizione all'inizio. Poi prendiamo il cursore e avanziamo fino in fondo alla timeline. E qui aumentiamo il valore X di questo parametro in modo che il nastro scorra verso destra più o meno di questa quantità qua. Proviamo a fare una preview per vedere se la velocità ci va bene. Benissimo direi che ci siamo. Ora vorrei la stessa animazione ma al contrario anche sul nastro viola. Quindi posso copiargli lo stesso effetto sopra e poi invertire i due keyframe. Quindi seleziono Offset nella finestra controllo effetti. Lo copio CTRL-C. Prendo il cursore, vado al tempo zero, seleziono il nastro viola e incollo l'effetto CTRL-V. E per mettere in evidenza i due keyframe che ho appena incollato clicco il tasto U che appunto serve per far comparire i keyframe di un livello. Ora quello che voglio fare è invertire i due keyframe in modo che si scambino di posizione. E per farlo potrei manualmente spostarli uno al posto dell'altro oppure li posso selezionare entrambi e cliccando col tasto destro su uno dei due, per esempio il primo, andiamo nella sezione Keyframe Assistant e attiviamo la voce Time Reverse Keyframe. Come vedete il nastro viola adesso scorre della stessa quantità ma in direzione opposta. Benissimo, adesso vorrei lo stesso effetto griglia che ho applicato precedentemente nella composizione pavimento. Quindi posso copiare il livello di aggiustamento dalla composizione pavimento e incollarlo qui. Quindi riattivo la composizione pavimento nella timeline, seleziono il livello di aggiustamento, lo copio, CTRL-C, ritorno in titoli scena 1 e lo incollo, CTRL-V. Come vedete siccome il livello di aggiustamento che ho copiato ha questa dimensione qua, l'effetto griglia si vede solo qua dentro e quindi non devo fare altro che riadattare il livello di aggiustamento alla dimensione di questa composizione. E per farlo rapidamente in automatico posso andare nel menu layer, transform, fit to comp, cioè adatta alla dimensione della composizione. Proviamo e come vedete adesso il livello di aggiustamento si è riadattato perfettamente alla dimensione della composizione. Benissimo, la griglia va più o meno bene, direi soltanto di diminuire un po' lo spazio intermedio ai quadrati. Quindi vado sul parametro border e lo abbasso in questo caso a 4. Benissimo, direi che così è perfetto. Ora le stesse identiche animazioni all'effetto griglia li voglio anche nella composizione titoli scena 2. Quindi subito ricopierei l'effetto offset e andrei a incollarlo nei due livelli della scena 2. Quindi seleziono il nastro verde, seleziono l'effetto offset, di nuovo ctrl c, vado nella finestra di progetto e apro nella timeline titoli scena 2. Quindi doppio clic, seleziono contemporaneamente tutte e due i livelli e incollo l'effetto tutte e due, ctrl v. Ora però come ho fatto prima, devo invertire i keyframe del nastro viola. Quindi seleziono il nastro viola, metto in evidenza i suoi keyframe con il tasto U, seleziono entrambe i keyframe, tasto destro su uno dei due, keyframe assistant, time reverse keyframe. Perfetto e ora di nuovo ho bisogno dello stesso effetto griglia che ho applicato alla scena 1. Quindi ritorno momentaneamente ancora in titoli scena 1, seleziono il livello d'aggiustamento, lo copio, ctrl c, vado in titoli scena 2 e ctrl v. Benissimo e ora entrambe le composizioni e titoli sono terminate. Adesso possiamo assemblare le due scene e incominciamo dalla scena 1. Quindi andiamo in composition, new composition e la chiamiamo in questo caso scena 1. E come dimensione usiamo il solito preset HDTV 1080 25 e la durata 4 secondi. Perfetto, proseguiamo. Bene, cominciamo dalla fotografia, quindi prendo Nadal, lo aggiungo qua, accendo il pulsante del 3D e per lavorare un po' più comodamente attivo anche il secondo monitor. quindi nel menu delle viste scelgo due viste orizzontale. Al momento qui a sinistra vedo il punto di vista top ma vorrei mettere in evidenza il punto di vista frontale. Quindi attivo questo monitor cliccandoci sopra e dal menu dei monitor scelgo il punto di vista front. Bene, ora per vedere un po' più di spazio intorno alla fotografia prendo lo strumento Camera, questo, clicco con il tasto destro nel monitor e trascino. Bene, ora la prima cosa è creare il riflesso della fotografia sul pavimento e per farlo non facciamo altro che duplicare la foto, ribaltarla verticalmente e ritagliarla in modo che si vedano soltanto i piedi. Quindi seleziono la foto e subito sposto l'Anchor Point qui in basso in modo che poi si ribalta correttamente. Quindi con la palette Move Anchor Point clicco qui. Adesso duplico la fotografia, quindi la seleziono Ctrl D e per ribaltare la copia della foto verso il basso vado nel menu Layer, Transform, Flip Vertical che significa appunto ribaltare verticalmente. Attiviamola e così ottengo il riflesso. Solo che del riflesso voglio soltanto vedere la parte più vicina al pavimento, cioè i piedi e una parte della gamba. Quindi per tagliarlo prendo lo strumento Maschera, quindi seleziono il rettangolo e con un rettangolo abbastanza largo isolo questa parte qua. E ora apriamo le proprietà della maschera e aumentando il parametro Mask Feather sfumiamo un po' il bordo dalla maschera in modo che il riflesso sfumi un po' alla volta verso il basso. E in più direi anche di diminuire un po' l'opacità in modo che il riflesso sia un poco più debole. Io direi intorno al 30%. Così ci siamo. Benissimo. E ora sotto i piedi del tennista aggiungiamo il pavimento. Quindi prendo la composizione pavimento, la aggiungo nella timeline, subito accendo il pulsante del 3D e in questo caso ho bisogno di ruotarla sull'asse X in modo che si metta in direzione orizzontale. Quindi attivo la rotazione, agisco sulla X rotation e lo ruoto di 90 gradi. E adesso con la posizione Y la abbasso fino a quando non si allinea con la suola delle scarpe. Come vedete la linea del pavimento è allineata appunto con questa scarpa qui. Perfetto. Ora attivo il punto di vista dall'alto. Quindi attivo top. Come vedete il pavimento è in questa direzione ma io voglio ruotarlo in modo che si veda come si vede qui. E quindi dobbiamo ruotarlo di 45 gradi. Quindi riattivo di nuovo la rotazione. In questo caso devo ruotarlo intorno al perno blu. e come dicevo prima appunto di 45 gradi. Bene, adesso i titoli sullo sfondo. Quindi prendo titoli scena 1, li aggiungo nella timeline, accendo il pulsante del 3D. Bene, ora li dobbiamo alzare un po' di più e spostare in fondo al pavimento. Quindi metto in evidenza la posizione, agisco sulla posizione Y e li alzerei più o meno qua. E adesso li spostiamo qui in fondo dove si trova l'angolo del pavimento. Quindi con la posizione Z li sposto all'incirca fino qua. E ora per far sì che i titoli facciano un angolo retto in questo punto qui, dobbiamo dividerli in due parti. Quindi seleziono titoli scena 1, zoom un po' indietro nella finestra active camera in modo che vedo tutta quanta la lunghezza dei titoli. Prendo di nuovo lo strumento maschera e ritaglio la parte di sinistra più o meno fino a metà. E ora devo ruotare questo livello di 45 gradi verso il centro della scena. Però prima di farlo mettiamo l'anchor point sul lato destro qui della maschera. Quindi seleziono titoli scena 1, con la palette move anchor point clicco sul lato destro e ora finalmente posso ruotare di 45 gradi intorno all'asse verticale. Quindi attivo la rotazione, agisco sulla Y rotation e in questo caso è meno 45 gradi. Perfetto. E in questo caso direi anche di correggere leggermente la posizione dei titoli verso sinistra in modo che siano ben allineati con la fine del pavimento. Quindi attivo la position, lo sposto con la position X più o meno qui e lo sposterei anche leggermente più avanti qua. E ora per avere la parte di destra non facciamo altro che duplicare titoli scena 1, invertire la maschera in modo che si veda il resto del livello e poi ruotarlo verso di noi 45 gradi. Quindi seleziono titoli scena 1, li duplico, control D, seleziono il duplicato, vado a cercare la maschera, eccola qui, la inverto cliccando sul pulsante inverted e a questo punto anziché vedere la porzione dentro la maschera vedo la porzione fuori dalla maschera, cioè il lato destro dei titoli. Benissimo. Ora riattivo di nuovo la rotazione e corrego la Y rotation questa volta più 45. Ora mi manca soltanto il soffitto che non è nient'altro che una copia del pavimento ricolorata però di viola. Quindi seleziono il pavimento, lo duplico, control D, il duplicato con la posizione Y all'incirca a questa altezza qui e per cambiargli il colore gli applico l'effetto fill. Quindi vado nel menu effetti, categoria generate, fill. Benissimo. Immediatamente tutto il livello diventa rosso ma io lo voglio dello stesso viola del nastro dei titoli. Quindi prendo il contagocce del parametro color e vado a cliccare nella zona del viola. Bene, la scena 1 è completata. La scena 2 non è nient'altro che un duplicato di questa scena nella quale sostituiamo la foto e i titoli dello sfondo. Quindi torno nella finestra progetto, seleziono scena 1 e la duplico, control D. Subito ottengo una composizione scena 2, ci faccio doppio clic in modo che si apra qui nella timeline e sostituisco le due copie della fotografia. Quindi le seleziono entrambe, prendo la foto di Venus Williams, tengo premuto il tasto Alt e la sostituisco alla foto di Nadal. Quindi con la foto siamo a posto. La stessa identica cosa la faccio anche per la sostituzione dei titoli. Quindi li seleziono entrambi, prendo titoli scena 2 e li sostituisco con il tasto Alt. Perfetto. Ora creeremo la composizione finale che contiene le scene e le faremo ruotare su se stesse intorno all'asse verticale. Quindi Composition, New Composition, chiamiamola Esercizio 16 Finale. Lo stesso preset e come durata la facciamo 12 secondi. Benissimo e diamo l'ok. Prima di aggiungere le scene aggiungiamo lo sfondo e in questo caso voglio un rettangolo con sfumatura radiale da viola a nero. Quindi prendo lo strumento rettangolo. Nel Fill scelgo l'opzione sfumatura radiale e nella palette dei colori imposto come colore centrale un viola abbastanza scuro come questo e tutto intorno invece nero. Benissimo. Ora per disegnare un rettangolo grande come la composizione basta fare doppio clic sull'icona del rettangolo. Quindi doppio clic. Il centro della sfumatura non lo voglio al centro della composizione ma un poco più in alto più o meno qua e la fine della sfumatura la porto nel punto più lontano cioè nell'angolo. Benissimo. Rinomino il livello sfondo e siccome lo vogliamo statico sullo sfondo lo lasciamo 2D senza accendergli il pulsante del 3D. E ora aggiungiamo la composizione scena 1. Quindi la prendo, l'aggiungo qui, accendo il pulsante del 3D e il nostro scopo è quello di fare ruotare tutta la scena intorno all'asse Y. E se provo subito ad agire sulla Y rotation come vedete c'è qualcosa che non va. I vari elementi non sono distribuiti in modo corretto. Quindi quando si ha a che fare con una precomposizione come in questo caso che contiene al suo interno dei livelli 3D non basta accendere il cubetto ma bisogna anche accendere questo pulsante qua. Il collapse transformation che in passato ci è capitato di usare per vedere correttamente i file vettoriali tipo quelli di illustrator. Ma usato invece per le precomposizioni che contengono livelli 3D fa sì che i vari livelli 3D vengano visti correttamente nello spazio tridimensionale nonostante siano all'interno della precomposizione. Benissimo. Ora prima di creare l'animazione aggiungiamo la camera che inquadra la scena. Quindi andiamo in layer new camera. Come tipo di camera usiamo una camera a due nodi quindi two node camera e come obiettivo un obiettivo particolarmente largo. In questo caso io scelgo un 15 mm. Disattiviamo enable depth of field e lo accenderemo più tardi per fare la profondità di campo e diamo l'ok. Bene allontaniamo un po' con la camera indietro in modo che si veda la scena un po' più larga. Io direi più o meno qui e adesso animiamo la scena 1. al tempo 0 voglio vedere la scena 1 da dietro quindi ruoto la y rotation di 180 gradi e in questo caso la ruoto verso sinistra e quindi il valore corretto è meno 180 gradi e accendo l'orologio della y rotation. Pendo il cursore avanzo più o meno 10 frame e riporto la scena frontalmente però non torno a 0 gradi ma qualche grado in meno magari meno 10. Adesso avanzo fino a circa 10 frame dalla fine della scena e in questo momento qui aumento un po' con la rotazione in modo che la scena continui a ruotare lentamente verso destra. In questo caso a più 10 dalla parte opposta. Quindi abbiamo una rapida rotazione poi una lenta di pochi gradi e ora un'altra rapida rotazione in avanti in modo che la scena torni di nuovo a vedersi da dietro. Quindi porto il cursore sull'ultimo frame della scena e continuo a ruotarla fino a 180 gradi in modo che la vedo di nuovo da dietro. Quindi riepilogando all'inizio sono dietro la scena poi rapidamente mi trovo quasi frontalmente poi in circa 3 secondi ruoto lentamente dalla parte opposta e poi di nuovo torno nella posizione iniziale. Proviamo a fare una preview. Perfetto. Adesso finita la scena 1 vorrei che cominciasse la scena 2 con la stessa identica animazione e per ottenere questa cosa rapidamente posso duplicare qui la scena 1 e poi sostituirla con la scena 2 in modo che abbia appunto gli stessi keyframe. Quindi seleziono la scena 1, CTRL D, sostituisco la scena 1 con la scena 2 tenendo premuto il tasto ALT. Una volta che ho la scena 2 la sposto in avanti nella timeline in modo che cominci esattamente dove finisce la scena 1 e se vado a vedere ruota di 180 gradi in avanti poi lentamente poi di nuovo 180 gradi dietro. E ora finita la scena 2 voglio il logo finale MG Tutorial. Quindi prendo lo strumento testo clicco nella composizione scrivo MG e a capo Tutorials. Seleziono MG, lo ingrandisco un po' di più, poi sposto la scritta più o meno al centro della composizione e magari la riadatto all'incirca così. Ora attiviamo il pulsante del 3D in modo che possiamo ruotarlo sul perno verticale. Prendo il cursore vado sul primo frame dopo la scena 2 e in questo momento voglio che MG Tutorials sia ruotato di 180 gradi quindi attivo la rotazione e anche a lui assegno un valore iniziale di meno 180 gradi. Perfetto accendo l'orologio di Y Rotation avanzo all'incirca 10 frame quindi vado a 8 e 10 e lo riporto a 0. E ovviamente siccome devo vedere la scritta soltanto dopo la scena 2 posso trimmare l'inizio del livello MG Tutorial fino a quando non comincia l'animazione quindi fino qua. Adesso animiamo la camera. Voglio che inizialmente la camera inquadri la scena dal basso verso l'alto quindi nel monitor di sinistra innanzitutto mi metto sul punto di vista left e abbasso la posizione della camera più o meno a questa altezza qui e quindi come si vede bene qui la camera punta verso l'alto grazie al punto di interesse che si trova qui al centro della scena. E contemporaneamente voglio anche inclinare l'inquadratura verso sinistra. Per fare questo posso agire sulla rotazione z della camera quindi attivo anche la rotazione e aumento di qualche grado la z rotation in modo da avere appunto un'inquadratura obliqua. Bene ora mettiamo il keyframe. Prendo il cursore vado al tempo 0 e accendo l'orologio della position per fissare la posizione in basso e quello di z rotation per fissare l'inclinazione iniziale. Poi avanziamo nella timeline mi porto fino al primo frame della scena successiva e in questo caso invece voglio che la camera guardi la scena dall'alto verso il basso quindi prendo la camera con la posizione y la sposto in alto più o meno qui e come inclinazione la voglio inclinata dalla parte opposta quindi agisco sulla z rotation e la porto a meno 5 gradi appunto in modo che sia inclinata verso destra. Poi di nuovo avanzo nella timeline e quando mi trovo sul primo frame del titolo riabbasso di nuovo la camera verso il centro in modo che l'inquadratura sia di nuovo parallela alla scena e riazzero anche la z rotation in modo che l'inquadratura non sia più obliqua. Bene adesso prima di fare una preview aggiustiamo anche la messa a fuoco e profondità di campo. Vogliamo che siano sempre a fuoco i due tennisti e che sia leggermente sfocato lo sfondo. Quindi apro le opzioni della camera, attivo il parametro depth of field, lo metto su on, riporto nel monitor di sinistra il punto di vista dall'alto quindi riattivo top, agisco sul parametro focus distance fin quando il piano della messa a fuoco non coincide con la fotografia al centro della scena e quindi ho portato questo piano qui in corrispondenza della fotografia che si trova qui. E ora per far sì che lo sfondo cominci a sfocare devo aumentare il parametro apertura e in questo caso lo porterei a un valore abbastanza alto intorno ai 200. Perfetto, proviamo adesso a fare una preview per vedere se le animazioni funzionano bene. perfetto, direi che ci siamo. Bene, adesso torniamo ad un'unica vista centrale, quindi ritorno su one view e adesso gli effetti finali. Incominciamo dagli effetti di ingrandimento colorati, uno verde e uno viola che attraversano la scena in direzione opposta. Questo effetto l'abbiamo anche già usato in altri esercizi e si crea partendo da un livello d'aggiustamento sul quale si applicano gli effetti transform e tritone. Quindi vado in layer, new adjustment layer. Vogliamo che il livello d'aggiustamento sia una barra verticale, quindi riduco la dimensione del livello d'aggiustamento all'incirca così e dentro questo rettangolo voglio vedere l'immagine ingrandita e colorata. Quindi seleziono il livello d'aggiustamento, vado nel menu effetti, nella categoria distort applico transform, aumento la proprietà scala, io direi intorno al 150% e adesso in questa zona vedo la scena ingrandita, però la voglio anche vedere colorata di verde, quindi vado in effetti, color correction, tritone. Apo la palette di mid tones, prendo il contagocce e campiono il verde del nastro dei titoli e magari lo schiarisco anche un po' di più, più o meno in questa zona qua e diamolo ok. Allora io voglio fargli attraversare la scena da sinistra a destra durante la prima rotazione, quindi vado al tempo zero, attivo la posizione, esposto il livello d'aggiustamento fuori a sinistra. Accendo l'orologio, avanzo un poco meno di un secondo, io direi intorno ai 20 frame e sposto il livello d'aggiustamento fuori a destra. Quindi in 20 frame il livello d'aggiustamento passa davanti alla scena e naturalmente possiamo trimare tutti i frame che non ci servono, quindi prendo la coda e la taglio fino al secondo keyframe. Bene, e adesso vorrei un effetto simile ma viola che parta dalla parte destra e attraversi la scena verso sinistra. Quindi posso duplicare il livello d'aggiustamento e invertire i keyframe della position. Quindi lo seleziono, CTRL D, seleziono i suoi keyframe e come abbiamo fatto prima, per invertire i due keyframe, clicco col tasto destro su uno qualsiasi dei keyframe e attivo Time Reverse Keyframe. Questo secondo livello d'aggiustamento lo vogliamo viola, quindi di nuovo riapro la palette di Midtones, prendo il contagocce e campiono il viola dei titoli e anche in questo caso direi di schiarire un po' di più il colore all'incirca qui. Perfetto. E questo secondo livello d'aggiustamento magari lo facciamo partire con qualche frame di ritardo, all'incirca così. Benissimo, questi due effetti li vogliamo anche a metà della scena 1, durante la transizione tra la scena 1 e la scena 2, a metà della scena 2 e per ultimo durante la transizione tra la scena 2 e il titolo finale. Quindi possiamo selezionarli entrambi, duplicarli, CTRL D, i due duplicati li sposto in avanti in modo che comincino più o meno a metà della scena 1, di nuovo li duplico, CTRL D, la terza coppia la faccio cominciare a cavallo delle due scene, quindi la sposto all'incirca qua, li duplico di nuovo, la quarta coppia la sposto all'incirca a metà della scena 2 e l'ultima coppia la metto a cavallo tra la scena 2 e il titolo finale, quindi all'incirca qua. E ora gli ultimi effetti. Un effetto bagliore per aumentare la luminosità della scena, un effetto vignetta per scurire leggermente i bordi dell'inquadratura e poi il solito effetto di color correction lumetri in modo da avere un look finale più interessante. Quindi incominciamo con l'effetto bagliore e lo applichiamo come al solito a un livello d'aggiustamento, quindi layer, new adjustment layer, effetti, stylize, glow. Benissimo, come vedete la scena adesso è più brillante rispetto a prima, però al momento l'effetto è concentrato soprattutto sulle parti bianche dell'inquadratura e noi vogliamo distribuirlo meglio ovunque, quindi veniamo nei parametri dell'effetto e incominciamo dal primo, dal threshold. Lo abbassiamo un po' in modo che anche le parti più scure del verde e del viola aumentano l'intensità luminosa. Io scenderei più o meno intorno al 30%. Adesso aumentiamo anche il secondo parametro che è il raggio del bagliore in modo che sfuma un poco di più, è un valore intorno ai 60-70, penso possa andare bene. Adesso il bagliore l'abbiamo un po' ovunque nella scena, però l'intensità è troppo forte, quindi abbassiamo il terzo parametro che gestisce appunto l'intensità e io direi di scendere tra i 0,4 e 0,5, così. Perfetto. E adesso con l'effetto vignetta oscuriamo gli angoli e i lati in modo che la scena rimanga luminosa soprattutto al centro dell'inquadratura. Quindi aggiungiamo innanzitutto un nuovo livello d'aggiustamento, layer, new adjustment layer, effetti, andiamo ancora nella categoria stylize e scegliamo l'effetto CC vignette. Vedete che immediatamente tutta la zona vicino ai bordi si è oscurata un po', ma in questo caso aumenterei ancora un po' di più l'intensità. Quindi vengo nei parametri dell'effetto e aumento il parametro amount e arriverei intorno ai 150-160. Benissimo. E ora l'effetto finale, Lumetri Color, che ci permette di dare un look più interessante a tutta quanta la composizione. Quindi di nuovo andiamo in Layer, New Adjustment e su questo livello d'aggiustamento aggiungiamo l'effetto della categoria Color Correction, Lumetri Color. Bene, come abbiamo già fatto in altri esercizi, andiamo nella sezione Creative e scegliamo dal menu Look il look che ci sembra più adatto. In questo caso io ho scelto il Look SL Clean Kodak B. Lo applico. Come vedete questo effetto aumenta molto il contrasto tra il chiaro e l'oscuro, però è un po' troppo forte, quindi abbasso un po' l'intensità e scenderei tra i 70 e gli 80, all'incirca così. Benissimo. Ora riporto la risoluzione finale al massimo, quindi su Full e finalmente posso lanciare la preview finale. Perfetto, direi che ci siamo. Quindi la lezione di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!